bella a tutti ragazzi e bentornati in un nuovissimo video di fortnite che sono forte dicono tutti invece sono scherzo come la pippa andiamoci a farci che questo è singolo poi ci sta david l'amico david l'amico che bella questa poi questo è lo shop dove ci sta l'unicorno tuttora poi ci sta questo è bello il motorio ah io ragazzi ho diventato chiappelucenti alla fine no chiappelucenti si 10 10 like a questo video per chiappelucenti applauso pure adesso ci andremo a fare le tre partite del giorno perché tanto so che morirò presto quindi credo che sarà è ovvio no? comunque qua andiamo a notifiche e sembra che i video si sono scaricati tutti ma non so come dire però vabbè e allora ma avete? ma avete che è un gioco tutto il giorno? ma io tutta la sera? ciappelucenti forever andiamo allo yacht che è nuovo voglio andarlo a vedere nuovo yacht andiamo a vedere no se mi sparo no secondo me ci sta death pool la a death pool mi spari pure tu? la sua testa è gigante guardatela come scruta le persone da lontano lady death pool lady death pool mamma mia quanto sei death pool mamma mia death pool quanto è bello lo dovevano per forza aggiungere perchè se non aggiungono eppure le sue mutande ma dai no ragazzi con la pistoletta no erba muori ci prego ti prego muori ti prego muori ma dai ma che bambino dai muori muori ci spero godo godo ma io quanto godo chi c'è morto ma quanto godo godo chi c'è morto morto c'è beh ragazzi io canto intanto lady cozze lady cozze arrivano le cozze vabbè una cosa del genere voi non fate caso intando 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 che faremo che faremo e giocheremo e sto video metterò un titolo molto importante per tutti ragazzi ragazzi adesso dobbiamo diventare oh in ste partite dobbiamo massacrare tutti no basta dobbiamo massacrare diventa chiappe lucenti 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 ahhh minecraft stramude craft oh che da di cazzo ftu oh cacchio ftu di raga cacchio ftu di e potro con dovete sapere che pokemon non vuol dire pokemon che è di pokemon quelli la si in realtà si dice potro con cioè è sempre stato detto potro con perchè le persone visto che avevano ci stavano i pokemon che c'è come io il gioco si chiama potro con invece i pokemon sono quegli esserini piccoli medi giganti super giganti eccetera draghi lucertole sassi eccetera però si dice a potro con perchè potro con perchè potro con vuol dire che i pokemon cioè non lo so cosa vuol dire potro con che sono perchè prima forse ci stavano i draghi potro gon gon mi fa pensare a un drago dragon potro con dragon boh una cosa del genere ci stavano solo i draghi solo charmander boh una cosa del genere però prima io so che si chiamava potro con il gioco dei pokemon per chi non lo sapesse eh adesso lo so devo man- no mangia mangia ti ho detto mangia mangia sto povero pesce che non deve vivere che è un pesce di di cavolo è un cavolfiore dai raga abbiamo capito che è un cavolfiore sta roba sto roba non è un pesce raga sto coso è vivo raga sto coso è vivo ve lo dico io è vivo sto coso fa finta di essere morto invece è vivo non vi fate non vi fate fidatevi mai dei pesci i pesci sono cattivi ah un'altra cosa che voi forse non sapevate che panda voi pensate tutti che so carini e buoni ma se ci metti la mano vicino lo se la mangiano la mozzicano se ve la mangiano perché hanno i denti come un lupo i panda i panda non sono animali cioè non so come i lupi che vanno a caccia e mangiare il bambu se pensano buoni i panda dolci e gentili invece loro sai che fanno so carnivori eh perché loro essendo pigri ecco perché so ciccioni e voi cioè i panda tutte le persone dicevano perché i panda so perché i panda so so così perché si ma guarda questo con lo spasso e fa il bambino cioè i panda dicono tutti che so dolci invece so bestie bestie della natura mi stava a prendere un colpo quando quello mi iniziava a saltare stava di ma moce moio mi stava non volevo morire e quello è il problema cioè tutti dicono che i panda eh eh invece quelli essendo che so pigri so pure ciccioni no se mangiare il bambu capito che fanno questi qua dicono noi siamo dolci venite che vi mangiamo perché loro se manierebbero pure il più piccolo degli insetti basta che manino capito cioè loro sono animali cattivi eh i panda sono animali cattivi le spiegazioni di forza ne te lo dovrei chiamare sto video però non lo chiamerò così potrei pure chiamare perché il mio co il mio numero di livello 115 sta andando a fuoco forse sta bruciando forse ha preso fuoco che devo dire mi impegno un palo ma basta prendi i pali in faccia quanti problemi c'ha sto giocatore è pure d'oro ma si attira cioè uè 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 potrocon picacro picatron e se si chiama potrocon quello si dovrebbe chiamare uè pure arabo raga pure arabo pure arabo pure arabo si trovano qua pure gli arabi si trovano pure gli arabi pure gli arabi e vabbè ci troviamo su fortnet il gioco più cringe del mondo anzi più happy più cringe più brutto cioè dovrei dire più rimbambito del mondo più brutto più boh che ne so questo gioco mica è bello come tutti come po po che ricordatevi questo pokemon potrocon eh e voi ricordatelo eh e quindi come ninjafruit la ninjafruit la no ninjafruit fa schifo boh non lo so per chi piace bello questo oh no dove spara col pompa ah cioè ninjafruit non è un gioco secondo me forse a quelli dell'antichità piacciono però a me no decisamente no vabbè call of duty il callo dei fiuti buono call of duty vabbè non prendo in giro perchè ci saranno mmm che posso dire scribbolio scribbolio quindi ah scusate io sono urlato eh però ho la voce ah così scribbolio e minicraft minicraft stramudecraft così giochi così stramudecraft lo conoscete stramudecraft è il fratello minore di minicraft oh quello 23 nooo non potevi evitare di costruire potevi evitare vabbè spara sparami le bende per favore ti prego provaci ti prego ti prego provaci a spararmi con le bende vedete se fa uno di danno ma quello sa almeno che io esisto ma raga quello veramente ma lo sa se io esisto no veramente non lo so non lo so buo è fulminato qua 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 ciao dai l'avevo preso ragazzi ce l'avevo ce l'avevo no podrogon ciao baby baby out scemo scemo out chiudi da bo po un pezzo di erbe erba piccolina amori sceldini miei non già prendi il pesce per favore prendi il pesce più cattivo di me prendi lui ho fatto questo non lo so manco io muori muori no va bene poverino no mi sta un po' dispiace per quello che ho fatto l'ho massacrato no raga veramente lo so però cioè aveva pochissima vita mi sta un po' dispiace cioè non lo volevo tanto uccidere per carità volevo solo boh uccidere si vabbè se mi sparavo lo uccidevo però mi sta un po' dispiace per quello che ho fatto l'ho ucciso cioè era pover boh non lo so ma un altro scar eeeh no raga ma oggi è il giorno degli scarre eh tre scarre ho trovato uno in una cassa un altro là per terra un altro ce l'aveva quel tizio lì eeeh è la fine del mondo ci sono anche i pesci su fort ma raga se non mettono i pesci su fort perchè non siamo cannibalisti lo sappiamo perchè non mettono i pesci però perchè allora non mettono pure i cosi le pecore i maiali scusa cioè sto gioco ci stanno i pesci perchè non mettono i maiali eeeh è un po' più ragionevole se non è coi maiali maiali sono più cioè si sa dove cioè stanno qua si trovi la carne di maiali trovi il ma il bacon ti da bacon buono eeeh e tu comunque lo manci e ti da 30 30 di vita o 70 mo poi c'è il bacon crudo il bacon ma cioè un maiale ti può dare il bacon cotto così può dare il bacon eeeh crudo che ti da eh il bacon cotto ti da pure lo shield ti da vita shield il bacon crudo ti da solo il coso la il la vita eeeh però tanta come il flopper sta barca la la addio mia amica vai via resta lì per altrui altre persone comunque sto male io non lo capisco ah ma ma che coi scusate se sto in silenzio ma non ho proprio capito quello che è successo va bene fortnite è un gioco strano mamma mia quanto è strano non lo so però so che è strano però so che è strano è stranissimo beh qua allora c'è ci fai beve il miele ci fai trova gli ignomi ci fai trova tutto perché ci fai beve l'acqua cioè noi come viviamo scusa andiamo in giro poi raga scusa no veramente non c'è senso sta cosa mi prendiamo in testa perché io di solito gioco senza pensaccia ma se fortnite noi passano giorni perché non dobbiamo ma perché non ho tanto vabbè mi fermo no oh scusate l'acqua una volta mi si ferma tutto e allora cioè è un po' strana sta cosa eh perché c'è cioè noi passano giù passano 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 sempre giorni però non abbiamo acqua da bere come facciamo a sopravvivere questa è la cosa che io non capisco su sto gioco che è da quattro soldi veramente è da quattro soldi lì no hanno costruito ha costruito la c'è qualcuno brutto pippo brutto pippo a me non mi piacciono i pive l'ombrellino l'ombrellino non lo prendo ragà mi potevi di di tutto ma di tutto ma io non mi potevi di di che dovevo prendere l'ombrello mi dovevi di di che dovevo prendere l'ombrello ti prego non sfondare facciamo amicizia siamo amici dai non siamo amici non sfondare se sfondi sei pippo sei pippo sei pippo dai pippo a pippo te prego pippo te prego pippo pippo no kings kings man che cacchio è ti prego pippo ah pippo no dai te prego siamo amici dai io sto sotto di te vivo sono un tuo conquilino io vivo sotto di te tu sopra sei il più grande capito? dai almeno non ci ammazziamo non siamo così tanto cattivi dai dai non ci ammazziamo ti prego non ti voglio ammazzare oh se spacca io se spacca un pillo è un pippo se spacchi c'è un pippo se spacchi c'è un pippo su qua sta immobile aspetta che io esco e non è un'atmosfera ti prego non mi uccidere per favore ti prego non mi ammazzare non ti rompo il sedere dai per favore Risparmiami Sono bravo Sono bravo dai Basta mi devo andare Basta mi ha rotto Volevi Volevi Guarda come mi insegue Guarda Ah Nappo Nappo ti ammazzo Ti ammazzo Basta devi morire Non ti meriti di vivere Questo mi stava aspettando Mi stava aspettando Mi stava aspettando Quanto mi danno fastidio le persone che mi vogliono aspettare Veramente Mi danno un fastidio tremendo Perché loro ti aspettano Fino a quando tu non muori Eh Questo mi ha fatto 300 in tesa 300 E mo si leva tutte le sue armi Solo per le mie Eh Ah Guarda quanto da fastidio però eh Raga veramente da proprio un fastidio tremendo quando le persone ti inseguono solo per ammazzarti Lasciamoci l'ultimo va Almeno non se ne parla più È un'atmosfera Yeah 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 Ti prego non mi uccidere per favore Lo so che non fa così Però io la dico Vabbè la dico Boh così Noi va da improvvisare Improvvisare Ti prego non mi uccidere il monster Yeah 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 È un'atmosfera Ti prego non mi uccidere il monster Yeah 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 A caso Il pinguino No 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 Perché te Metti a sparare In bambito Ciao Sì Andiamo a fare amicizie Ok Oh Che è successo Che è successo Mi sei arrivato così Vabbè Andiamo a morire male Perché il mondo Voi dovete capire Che forte Niente dice Se tu non muori Noi non siamo felici Quindi muori Vabbè è un po' strano Quello che ho detto Però Io non Dice Devi Morire Il mondo Così Il mondo Il giocatore Cioè L'epic games Dice tramite Boh Fortnite Cose così Dice Devi morire Se non muori Ma è schifo È un'atmosfera Yeah 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 Economici Demona Yeah 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 Ti prego È un'atmosfera Ti prego È un'atmosfera Please Please È un'atmosfera Please Non mi uccidere Giù di me Proprio così Mamma mia C'è una paura C'è una paura raga Sì Fortuna No Maledetto Devi morire Devi morire Come se Devi morire Ti fai Cavoli Tui Vabbè Raga Penso Che questo Video Finisce Qui Voi Attimo Vede Sto Tizio Vede Si ammazza S'ultima persona Spero che ci muore Aspettate Stiamo a guardare Vediamo Piano piano Vai E vai Ah muovi quel culo No Ma qua Deadpool Pure Deadpool Ma dimmi tu Deadpool Se taglierebbe pure Una mano Vabbè Ehm Vi dico questo ragazzi Ricordate di iscrivervi al canale Di attivare la campanellina E di mettere mi piace A questo video Ci Vabbè Ragazzi Ci vediamo In un prossimo video Ci vediamo In un prossimo video Ciao Ragazzi